1,85 milioni per la cultura d'Arezzo e questo il conto finale che emerge dai numeri della bilancia di previsione della Fondazione Guido d'Arezzo. Scorporando le voci per questa 2019 si scopre come il costo del Rago Festival sarà di circa 660 mila euro. La mostra di Paladino avrà un costo di 226 mila euro. E se la mostra fa registrare un buon numero di presenze, il Rago Festival non ha certo per il momento attirato il grande pubblico. Dall'opposizione attaccano Francesco Romizzi e Pasquale Macri. Non è solo l'entità dei soldi spesi, dicono, sappiamo bene che per mettere in piedi un cartellone di eventi occorre impegnare risorse. Lo abbiamo fatto con il Play Art e con i Castica, con Aritmi e tante altre stagioni. Dalla prospettiva del comune di Arezzo sono nel frattempo scomparsi i libri, roba da chi l'ha visto, e il cinema e perfino le rarità attraggono 30 persone. O forse proprio perché sono rarità, roba da elite senza il coinvolgimento reale di soggetti che operano nel mondo culturale da decenni. Peccato. Evidentemente concludono Macri e Romizzi. Adesso all'estate retina, che con la tanto denigrata i Castica durava peraltro quattro mesi e non due settimane scarse, in una città tornata ingessata come un doppio petto d'anzia regime, possono bastare anche un paio di spot. Non si fa tendere la risposta del sindaco Ghinelli. Arezzo Rago Festival dice che è un prodotto della fondazione Guido d'Arezzo e come tale è interamente finanziato dalla stessa che ha un bilancio pubblicato in Parigio. La fondazione è una scommessa che ha un orizzonte chiaro, miscelare una produzione propria con le produzioni delle realtà locali più qualificate che hanno addiritto al progetto. Secondo l'ottica di Ghinelli, Rago diventerà per Arezzo quello che il Festival dei Due Mondi è per Spoleto. La produzione di video e di DVD che sarà distribuita in Italia su Sky Classica e attraverso altri network in varie zone del mondo, porterà l'immagine di Arezzo ad essere vista in 36 paesi di quattro continenti con oltre 9 milioni potenziali di telespettatori. Una campagna promozionale di 200 mila euro ottenuta, secondo Ghinelli, dal Raro a costo zero.